Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi mamma mia questa settimana quante novità ci saranno su Fortnite! Ne vedremo davvero delle belle a partire ovviamente dalla 14 giorni di Fortnite! Sì perché da oggi ragazzi il team di Epic Games è ufficialmente in vacanza per due settimane quindi non ci saranno aggiornamenti in tempo reale ma tutto quello che vedremo in game è già stato programmato nel video di oggi però ragazzi vi farò vedere innanzitutto una roba incredibile! Il trick con la DAB la nuova emote quella da 200 V-Bucks DAB profonda guardate che cosa sono riusciti a fare con questa emote e parleremo anche di un aggiornamento super importante per il nuovo Legend Pack che in realtà si chiama Shadow Pack! Vi farò vedere qualche immagine esclusiva e oltre a un bel po' di leaks anche l'immagine finale del puzzle dei Fortnite con una roba super interessante che potrebbe farvi capire un po' di più sulla season numero 9! Prima però volevo ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator Xyuderone grazie di quale ragazzi per sostenermi in Lelloshop vi chiedo scusa se non riesco a pubblicarvi tutti nelle storie di Instagram ci provo raga ci provo mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e soprattutto... attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima ve la dai ve la devo fare raga la domandina non posso non farvela ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto domanda di oggi super interessante così ma qual è la tua modalità tempo limitato preferita? qua ci sono degli esempi ma la tua LTM preferita qual è? in assoluto ne abbiamo viste davvero tantissime la mia ragazzi ce l'ho nel cuore ce l'ho nel cuore è la modalità incontri ravvicinati zaino backpack come si dice con il jetpack sulle spalle solo fucili a pompa e si va giù di prepotenza la adoro l'ho sempre adorata e per il momento non ho trovato nulla che possa sostituirla ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vederlo eccolo ragazzi immagine ufficiale che già vi avevo fatto vedere del nuovo bundle questa è in alta definizione quindi si vede meglio ma la novità è che in realtà non si chiama shadow è stato scoperto da pochissime ore il nome vero e dovrebbe proprio essere questo il banner ufficiale che troveremo nello shop qualora lo volessimo acquistare shadows rising bundle quindi scompare il nome legends credo che le skin quindi non siano forse di rarità leggendaria cosa che invece le altre skin sono e come vedete ragazzi il bundle è assolutamente a tema dark le novità che vi volevo semplicemente dire era la modifica del nome ma anche la descrizione eclipse the competition this season while wearing the shadows rising pack quindi ecclissa la competizione in questa stagione mentre indossi il nuovo outfit e il nuovo outfit del rising pack ragazzi tanta tanta roba e ci spiega che arriva con tre skin tre backpack e una copertura per armi e veicoli quindi ragazzi non vediamo l'ora di vederlo in game quanto prima ma andiamo avanti ragazzi ed eccolo qua una delle altre novità forse non tutti lo sapete ci perdiamo due secondi c'è un altro bundle in arrivo questa season che è il break point quindi la versione speciale della skin punto di rottura vi ricordo che invece questo bundle sarà un po' diverso sempre acquistabile con soldi veri ma molto figo perché se dovesse costare 999 in realtà recupereremo tutti i cash perché verrà regalato anche un set di sfide che ci permetteranno di recuperare 1000 v bucks quindi perché no secondo me recuperiamo i soldi spesi con le sfide e ci prendiamo una nuova skin molto velocemente ragazzi per chi ha sì che ce l'ho per chi non la dove diamine è finita l'abbiamo persa per chi non l'avesse vista ragazzi abbiamo anche l'immagine in game della nostra non ce l'abbiamo maledizione della nostra skin se mi date un secondo ve la faccio vedere subito ragazzi perché come al solito io preparo le cose e poi porca miseriaccia le cose sono sempre un po' come vogliono loro ma questo è il bello della diretta il bello della diretta la nuova skin in game ragazzi ce l'abbiamo e ce l'abbiamo proprio qua tanta tanta roba tanta tanta roba come vedete colori accesi brillanti che vanno anche con delle trame fluorescenti dalle gambe fino al torace davvero molto bella questa versione del nostro break point e come state vedendo ragazzi oltre al break point abbiamo anche il nuovo alla deriva ragazzi si purtroppo non è una versione della skin che tutti abbiamo ma la possiamo vedere in questo piccolo spezzone ragazzi e purtroppo sarà acquistabile nello shop come vedete oltre alla skin c'è anche il backpack che è una pistola ad acqua che perde acqua ma abbiamo due versioni comunque della skin con la camicia e senza camicia la cosa purtroppo che vi stavo ripetendo è che sarà obbligatoriamente acquistabile molto bello anche il piccone doppio che va a riprendere assolutamente i colori e le fie l'elettricità di alla deriva e anche il backpack non è assolutamente brutto quindi se ne avete voglia se ne avete la possibilità perché no ragazzi vale la pena portarsela in collezione ma andiamo avanti ragazzi ed ecco qua l'ultimo spezzone di video per oggi che è una figata assurda che sta succedendo con la nuova emote dub profondo è uscita pochi giorni fa costava una stupidaggine guardate che cavolo fanno alcuni giocatori ragazzi parte tutto da un da uno streamer che non so neanche non è italiano ovviamente guardate che storia ragazzi qua è in parco giochi in creativa comunque con un suo socio gli fa vedere lui fa il muro centrale va giù con la dub e si tira su prepotentemente è assurdo raga è assurdo cioè tu fai l'emote leggermente ti sposti blocchi l'emote e il personaggio si tira su con una velocità incredibile quindi presentandosi in faccia all'avversario e potendo così sparargli un colpo in faccia ci fa vedere anche fra due secondi l'utilizzo in game ed è davvero esagerato ragazzi se avete questa dub vi consiglio di dargli un'occhiata di provarla perché è veramente veramente assurdo il metodo di utilizzo in questo modo ma ci stiamo dilungando ragazzi e andiamo avanti parlando un secondo della 14 days of summer innanzitutto una piccola rettifica non sarà disponibile solo per chi ha il pass battaglia ma sarà disponibile per tutti è un errore grafico si dice così e spero davvero che sia così in modo che anche chi non ha il pass battaglia potrà giocarla arriverà con l'update 9.30 molto probabilmente quindi questo martedì e abbiamo anche un'immagine in game delle sfide vi ricordo 14 sfide che regaleranno premi ovviamente ci sarà ragazzi nel canale una playlist dedicata in tempo reale alle sfide e chiudo il video di oggi ragazzi con l'immagine del fort bite del puzzle dei fort bite completo volevo solo porre la vostra attenzione ragazzi su questa sezione che sembra proprio essere il nostro come dire l'impianto a pressione costruito nel vulcano che in qualche modo viene distrutto da chissà che cosa la cosa ci incuriosisce anche perché in un'immagine della 14 days of summer se andiamo a vedere questa è un'immagine ufficiale che verrà presentata in game se guardiamo più vicino si vede una nube molto particolare che fuoriesce dalla bocca del vulcano quindi è quasi certo che ci sia qualcos'altro di correlato con l'impianto a pressione io vi ringrazio tantissimo ragazzi per avere guardato anche oggi questo video news un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live ciao 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 ciao